Salve a tutti, sono il maestro Vincenzo e in questa seconda lezione vi parlerò delle moltiplicazioni in colonna. La scorsa volta abbiamo parlato delle operazioni in colonna senza cambio, adesso vi parlerò delle moltiplicazioni in colonna con il cambio. Vediamo come si risolvono. Prima di spiegarti le operazioni in colonna con il cambio, ripassiamo la moltiplicazione senza cambio. Fai finta che devi risolvere questa moltiplicazione 12 per 3. Regola 1, disegna la tabella della moltiplicazione. Regola 2, incolonna bene i numeri, unità sotto unità e decine sotto decine. 3, scopri qual è la tabellina ad usare. In questo caso la tabellina ad usare è quella del 3. A questo punto puoi iniziare a moltiplicare. Ricordati che devi iniziare sempre a moltiplicare dalle unità del numero come indicato dalla freccia blu. 3 per 2. Usiamo la tabellina del 3. 3 per 0, 0. 3 per 1, 3. 3 per 2, 6. Quindi 3 per 2 fa 6. Scrivo 6 nella colonna delle unità. A questo punto passo a moltiplicare le decine. Quindi riutilizzo la tabellina del 3 e moltiplico le decine come indicato dalla freccia rossa. 3 per 1. Tabellina del 3. 3 per 0, 0. 3 per 1, 3. Ho scoperto che 3 per 1 fa 3. E allora scrivo 3 nella colonna delle decine. Ho scoperto che 12 per 3 fa 36. A questo punto mi devo sempre ricordare di riportare il 36, quindi il risultato, anche nell'operazione in riga. Adesso passo a spiegarti le moltiplicazioni con il cambio. Come si fa a risolvere le moltiplicazioni in colonna con il cambio? Nel modo molto semplice che già conosci, usando le stesse regole, la stessa procedura che abbiamo usato nelle moltiplicazioni in colonna senza cambio o anche quando hai risolto le addizioni con l'incampio. Anche nella moltiplicazione troveremo il riporto come l'hai trovata nell'addizione. Fui finta che devi risolvere questa moltiplicazione, 13 per 5. Regola 1, disegniamo la tabella. Regola 2, metti in colonna i numeri, unità sotto le unità, decine sotto le decine. Scopri quale tabellina da usare, in questo caso è la tabellina del 5. Ora passo a calcolare. Si parte sempre dalle unità come indicato dalla freccia blu. 5 per 3. Tabellina del 5. 5 per 1, 5. 5 per 2, 10. 5 per 3, 15. Ho scoperto che 5 per 3 fa 15. Ma sai benissimo? Quei 15 non lo posso scrivere tutto nella colonna delle unità, perché 15 è formato da una decina e 5 unità. Quindi quello che posso fare è 5 per 3, 15. Scrivo 5 nella colonna delle unità e riporto di 1 nella colonna delle decine. Adesso passo a moltiplicare le decine. Osserva la freccia rossa. 5 per 1. Tabellina del 5. 5 per 0, 0. 5 per 1, 5. Ho scoperto che 5 per 1 fa 5. Mi devo ricordare a questo punto di aggiungerci il riporto, cioè che in questo caso è più 1. Quindi 5 per 1, 5. Più 1, 6. Scrivo 6 nella colonna delle decine. Ho scoperto che 13 per 5 fa 65. Mi devo sempre ricordare di riportare il 65 anche nell'operazione in riga. Facciamo un altro esempio. Risolviamo questa operazione. 16 per 6. Regola 1. Disegnare la tabella della moltiplicazione. Incolonnare bene i numeri mettendo le unità sotto le unità, le decine sotto le decine di ciascun numero. Scoprire qual è la moltiplicazione da usare. In questo caso è quella del 6. Adesso passare a moltiplicare. Si parte sempre dalle unità del numero come indicato dalla freccia blu. 6 per 6. Tabellina del 6. 6 per 0, 0. 6 per 1, 6. 6 per 2, 12. 6 per 3, 18. 6 per 4, 24. 6 per 5, 30. 6 per 6, 36. Ho scoperto che 6 per 6 fa 36. Scrivo 6 nella colonna delle unità e riporto di 3 nella colonna delle decine. A questo punto passo a moltiplicare le decine. Passo a moltiplicare le decine come indicato dalla freccia rossa. 6 per 1. Tabellina del 6. 6 per 0, 0. 6 per 1, 6. Ho scoperto che 6 per 1 fa 6. A questo punto mi devo ricordare di aggiungerci il riporto che è di più 3. Quindi 6 per 1, 6. Più 3, 9. Scrivo 9 nella colonna delle decine. Ho scoperto che 16 per 6 fa 96. Mi devo ricordare di mettere questo risultato anche nell'operazione in riga. Ripassiamo insieme tutti i passaggi che ti ho spiegato prima. 1. Disegnare la tabella. 2. Incolonnare bene i numeri mettendo le unità sotto le unità, le decine sotto le decine di ciascun numero. 3. Scoprire qual è la tabellina da usare. 4. Iniziare a moltiplicare sempre dall'unità del numero. E poi mettere il riporto nella colonna delle decine. 5. Puoi passare a moltiplicare le decine. E mi devo ricordare di aggiungerci il riporto. Infine, mi devo ricordare anche di mettere il risultato nell'operazione in riga. Se hai voglia, potresti mettere in colonna e risolvere queste moltiplicazioni, anche quando si tratta di un problema come quello che vedi. Potresti risolvere il problema scrivendo sia l'operazione in riga, sia e risolvendo anche l'operazione in colonna. Spero che sia stato molto chiaro nella spiegazione. Spero che ti sarò d'aiuto nelle moltiplicazioni con e senza cambio che affronterai. E a presto alla prossima lezione.